mangio la macedonia perché? perché la frutta fa bene a me e a te? non toglierti i cazzini perché? perché ti odorano i piedi e puzzano i piedi anche a te e poi mi prendere il dottorante per i piedi e costa e già ho pensato una cacchina perché? era per il nostro marciapiede ma va perché? perché ho comprato un gratta e vinci perché? perché volevo vincere ma non ho vinto ma dai non ho vinto non ho vinto ho sentito una scorreggietta perché? perché ho mangiato la pasta e fagioli con te e allora dopo questo io vi dico ciao vi dico ciao ciao e continuo a mangiarmi la mia macedonia e a proposito domenica scorsa andato a vedere il film di barbie a torino consiglio di andarlo a vedere perché è veramente un bel film carino fa capire anche delle cose divertente e poi l'attrice è una gran gnocca quella che ha interpretato barbie veramente bella io vi saluto ciao